Gli strascechi della pandemia e le incertezze internazionali confermano la tendenza degli ultimi anni che guarda alla riscoperta delle vacanze di prossimità lontane dalla folla e all'aria aperta, con particolare attenzione ai borghi e alle località immerse nel verde, attraverso la valorizzazione di arte, tradizione, buona cucina e relax. Ed è proprio puntando alla vacanza attiva che l'Abruzzo tornerà alla BIT di Milano dal 10 al 12 aprile. Alla in presenza dopo lo stop causato dalla pandemia, l'Abruzzo occuperà oltre 300 metri quadri all'interno della fiera di Milano City, sotto il coordinamento congiunto dell'assessorato regionale al turismo e delle due camere di commercio di Pescara Chieti e del Gran Sasso d'Italia, che questa mattina hanno presentato l'evento in conferenza stampa. Dopo due anni di fermo e dopo un'edizione online della BIT, si torna alla BIT con tante novità. Diciamo che l'Abruzzo si presenta con un padiglione di circa 300 metri quadri dove ci saranno 18 postazioni per gli operatori, dove faremo conferenze stampa, dove presenteremo anche i progetti in corso per rilanciare l'immagine dell'Abruzzo in tutto il mondo. Avremo la presenza di Nico Romito che parlerà del suo progetto, che è il nostro ambasciatore del nostro cibo, del nostro buon vivere in Abruzzo. Avremo la presenza lunedì del Ministro Caravaglia con il quale faremo il punto rispetto alla mia posizione di coordinatore della conferenza politica e turistica della conferenza Stato-Regioni. Quindi saranno momenti sicuramente importanti in cui faremo il punto della situazione e in cui avremo una vetrina dell'Abruzzo con tutti i suoi tesori. Gianmarco Giovannelli, componente della giunta della Camera di Commercio Gran Sasso, su cosa punterà l'Abruzzo quest'anno la BIT? Siamo pronti come sistema camerale abruzzese a presentare l'Abruzzo in pompa magna come buon auspicio rispetto ai tempi passati. Chiaramente il turismo abruzzese è un turismo ricco di club di prodotto, ricco di esperienze, di emozioni e ricco anche di storia. La Camera di Commercio Gran Sasso rappresenta circa i due terzi della ricettività abruzzese. Ovviamente il territorio di Teramo e dell'Aquila è un territorio che offre un ventaglio di proposte non indifferenti. Parliamo della montagna più importante del centro Italia, parliamo del 70% di ricettività abruzzese, parliamo del turismo attrezzato, organizzato, sportivo che è stato importante ed è ancora importante per la destagionalizzazione e quest'anno ricominceremo anche con questo. Lido Legnini, Vice Presidente della Camera di Commercio di Chiatipescara, l'Abruzzo ritorna alla BIT dopo due anni di stop con un turismo che è cambiato dopo la pandemia. Sì, una ripartenza per questa regione facendo sistema tra le due Camere di Commercio e lo stesso Dipartimento Turismo. Noi saremo presenti in particolare come Camera Chietipescara con diversi momenti, uno sicuramente sulla costa dei Trabocchi, poi c'è la pubblicazione di una guida sui tratturi. Si tratta di turismo rurale, delle bellezze delle nostre colline, un paesaggio ancora tutto da scoprire. Successivamente affronteremo anche il tema del turismo culturale, partendo da una delle città capoluogo della nostra regione Chieti, questo turismo sottovalutato.